Tenterà una sfida estrema, il giro del mondo in moto in 15 giorni. Lui è Paolo Pirozzi, motociclista specializzato nelle lunghe percorrenze in solitaria molto noto negli States e che oggi lancia da Napoli la sua missione, guidare a bordo della sua Ducati alla media di 1500 km al giorno per completare il giro dell'emisfero in appena due settimane. Un'impresa mai realizzata e che infatti verrà monitorata dai giudici del Guinness dei primati, pronti a consegnare il record agli annali. Ascoltiamo. Il giro sarà la partenza da Napoli fino a Musca, da Musca a Vladivostok, da Vladivostok prenderò il primo aereo che mi porterà negli Stati Uniti a Portland in Oregon, poi da Portland dritto fino a Miami, a Miami prenderò un altro aereo che mi porta a Lisbona e da Lisbona a Napoli. Un viaggiatore solitario Paolo che in otto anni ha totalizzato 516 mila chilometri e che vuole portare un pezzo della sua amata città, Napoli, nel mondo. L'impresa partirà il 19 agosto da piazza del plebiscito a bordo della sua nuova Ducati, costruita apposta per l'impresa grazie alla collaborazione del Café Racers Napoli, azienda specializzata nella costruzione di moto speciali e su misura. Saranno prodotti solo 25 esemplari in tutto il mondo. È un modello che si chiama Ducati P25, P che sta come Pirozzi, come Paolo, e 25 che il mio numero dà sempre, che mi porta fortuna. Pur di rappresentare questa città farò tutto.